Ciao a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento di Aspettando Abilmente in collaborazione con la Fiera di Vicenza Abilmente che vi aspetta nelle sue due edizioni di Vicenza e di Roma. Allora ragazzi, questi appuntamenti sono finiti, questo è l'ultimo progetto, una cosa semplice semplice, riciclo di cannucce e un lavoretto per Natale che possono fare anche i più piccoli. Se volete vedere come ho fatto vi aspetto sul canale di Abilmente e con questo progettino io vi dico anche che se volete sapere tutte le informazioni sulla Fiera Abilmente le trovate qua giù in infobox. Tutto quello che vorrete sapere per passare una giornata immersi nella creatività. Bene, vi saluto e vi aspetto sul canale di Abilmente se vi va. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!